Un documento del gruppo dei fratelli d'Italia, del partito dei fratelli d'Italia, sottolinea la fine di questa esperienza con questa amministrazione. Sì, è la fine della loro esperienza in questa amministrazione, non c'è dubbio, ma in realtà erano mesi che questa collaborazione era difficile, in realtà la vera opposizione era interna all'amministrazione, diversi provvedimenti importanti sono stati osteggiati e devo dire mai perché c'era un progetto alternativo, soltanto perché c'erano richieste di altra natura che non potevano trovare accoglimento. Ovviamente carattere politico, insomma, nulla di altro. E quindi diciamo che era in qualche modo una cronaca di una morte annunciata, ce l'aspettavamo. Ovviamente è pretestuosa la ragione per la quale hanno ritirato la fiducia all'amministrazione perché dopo l'intervento del Presidente Caldoro che mi aveva rassicurato su alcuni temi importanti relativi allo sviluppo cittadino, relativi all'ospedale, relativi ai trasporti, incontreremo il Presidente Caldoro sulla situazione della Sita nei prossimi giorni. Noi come lista civica ci eravamo impegnati a sostenere il candidato del centrodestra Giovanni Romano che è assessore dell'Aggiunta Caldoro e che abbiamo in massa sostenuto. I nuovi voti dei nostri consigli comunali sono andati tutti a Giovanni Romano. Quindi non c'era un motivo politico di questa crisi. Ma francamente credo che sia una sorta di liberazione per tutti noi perché ci liberiamo di una politica sfittica che non è stata mai in grado di dare un contributo reale. E invece andiamo avanti con tutti coloro che hanno a cuore veramente le sorti della città. Ci sono più di 50 milioni di euro fra opere già partite e altre che partiranno a breve e che vanno seguite. Pensate che ci sono da tenere a porti con la sovrintendenza, con i ministeri, con la Regione. E se dovesse malauguratamente venire un commissario ci troveremmo di fronte ad un'amministrazione guidata magari da un funzionario prefettizio che viene qui a Cava uno o due volte alla settimana. Il che vorrebbe dire mettere a serissimo rischio la città. Per cui noi intendiamo andare avanti, intendiamo coinvolgere tutte le forze politiche che hanno responsabilità. Noi da responsabili per Cava chiediamo la responsabilità di tutti per chiudere questa consigliatura. Dopodiché ovviamente ognuno potrà anche prendere la sua strada ma per il momento è prioritario perseguire l'interesse della città che è la conclusione naturale di questa consigliatura.